Oggi siamo in piazza Solferino 1 a Torino, al ristorante Mick Sushi. Unicità, suggestività e lusso sono le tre caratteristiche che ti accolgono da Mick. Luci, materiali, colori e musica si fondono insieme per rendere Mick uno dei migliori ristoranti sushi della zona. Nulla è lasciato al caso, tutto è pensato per offrire ai clienti un'esperienza unica. L'attenzione per il design non ha però tolto importanza a quello che è il cibo, visto che da Mick in cucina troviamo due dei migliori sushi man d'Italia. Nella perfezione di Mick non poteva mancare PointsMe, il gestionale per ristoranti che grazie alle sue tantissime funzioni riesce ad adattarsi a diverse tipologie di ristoranti e offrire un aiuto concreto allo staff. Mick Sushi è il ristorante che ti offre il cibo ottimo con menu all you can eat in un ambiente moderno e lussuoso senza cadere nel banale grazie al design impeccabile.